De Caro Home e Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Totò Sapore è la magica storia della pizza. Il film di animazione è stato messo magistralmente in scena sul palco del Teatro d'Europa, dagli alunni delle classi quinte, delle sezioni A, B, D e D dell'Istituto Comprensivo Perna Lighieri. Un lavoro al quale con impegno e tanto entusiasmo hanno lavorato i 77 alunni della scuola, sotto l'attenta guida delle insegnanti Lilia Formato, Anna Laura Zarra, Maria Novellino, Lucia Leone, Donatella Zito, Marilena Nigro, Laura Del Gaudi e la rappresentante di classe Daniela Perillo. I costumi perfetti e l'ottima preparazione degli alunni in canto, ballo e interpretazione hanno reso alla recita di fine anno uno spettacolo divertente e piacevole per il numeroso pubblico presente in sala, sia mercoledì che ieri. Ma mercoledì e giovedì sono stati anche i giorni di forte emozione con i bambini che hanno ringraziato le insegnanti che per cinque anni hanno rappresentato la loro guida verso il primo importante traguardo della loro vita. Lasciare la scuola elementare per passare alla scuola secondaria di primo grado, un passaggio delicato e per alcuni versi molto complicato, ma il sorriso di questi bambini dimostra l'ottimo lavoro svolto dalle insegnanti fino a ieri.